Siamo tornati anche quest'anno per l'undicesima edizione con Emergenze Creative, sempre con un progetto di arte pubblica, quindi un intervento performativo a tema ambientale che necessita del coinvolgimento delle persone. Quest'anno il progetto è stato scelto insieme all'Accademia di Belle Arti di Ravenna. L'artista infatti è uno studente delle Belle Arti, si chiama Luca Cabicchi, un giovane artista bolognese. La proposta che lui ha scelto è un lavoro che si ispira al tema di Icaro ed Edalo. Icaro cercò di sfidare il sole, quindi in questo senso sfidare la natura, avvicinandosi troppo al sole, le ali che utilizzava per scappare dall'arubirinto si sciolsero e lui cadde nel mare. Lui quindi, Luca Cabicchi, riprende questo tema, l'idea quindi dell'uomo che in maniera totalmente fallimentare cerca sempre di superare i limiti della natura. Sarà quindi un Icaro contemporaneo durante i tre giorni della manifestazione con una performance di un'ora al giorno. Le sue ali sono interamente realizzate con rifiuti vari e quindi l'invito delle persone è di avvicinarsi e staccare un pezzettino del cosiddetto rifiuto delle ali, quindi liberare e aiutare la liberazione di questo Icaro contemporaneo, prendere questi sacchetti del Fatume e andarli a gettare nei cestini vicini. Grazie a tutti!